Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare degli ETF, in particolare cercheremo di capire come trovare gli ETF su cui investire. All'interno di questo video ti farò vedere due siti che utilizzo per cercare appunto gli ETF su cui investire. Inoltre li utilizzo anche per un altro scopo, ma per saperlo dovete vedere il video fino alla fine. Per chi non mi conosce, mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di investimenti e trading. Se sei interessato a questi contenuti, vado ad iscriverti al canale per non perderti altri video come questo. Inoltre ti chiedo di mettere mi piace se hai trovato interessante questo video, in generale per supportare questo canale e la community. In modo da aiutarmi appunto a crescere grazie all'algoritmo di YouTube. E permetterti di portarti sempre video di maggiore qualità. Inoltre per chi non lo sappia se ho aperto un canale Telegram in cui parliamo in generale di analisi tecniche riguardanti in principale le criptovalute ma anche altri settori. In cui pubblico delle mie idee, delle notizie, delle considerazioni e anche dei setup per quanto riguarda il trading all'interno di questo canale. Che utilizzo principalmente per comunicare con voi in modo più diretto. Quindi mi raccomando se vuoi entrare in questo gruppo ti lascio il link qua sotto in descrizione. Un ETF o Exchange Traded Fund si tratta di un paniere che contiene diverse azioni, diversi sottostanti. In particolare quelli più utilizzati sono quelli riguardanti gli indici. Noi ci possiamo esporre appunto all'andamento medio di un certo numero di azioni utilizzando appunto questi strumenti. E in generale che replicano degli indici. Vi ricordo che la maggior parte di questi strumenti hanno dei costi. Sono dei prodotti fondi di investimento a gestione passiva il che riduce molto i costi ma comunque ci sono dei costi da sostenere. Anche se comunque abbastanza irrisori. Ma andremo a vedere quanto costano appunto all'interno dei siti. Ultima premessa prima di partire vi ricordo che i siti che vi do oggi servono per trovare appunto gli ETF. Ma appunto non vi danno alcun indizio su quelli che sono gli ETF giusti per voi. Voi dovete avere già delle vostre strategie, sapere in che appunto mercati volere investire e questo diciamo è un ulteriore passo. Con i siti che vi do oggi letteralmente vi sto dando gli strumenti per trovare gli strumenti su cui investire. Ma a parte gli scherzi cominciamo subito. Ok cominciamo a dare l'occhio al primo sito di cui ti voglio parlare che è JustETF. JustETF penso che sia il migliore attualmente rispetto ai due perché è quello che ti dà più personalizzazione per quanto riguarda il filtro. La prima sezione che andiamo a vedere è quella del filtro perché è quella più importante e che si serve di più. Per prima cosa andiamo a vedere l'asset class che vogliamo utilizzare. Come vediamo c'è tutte le classi, ci sono le azioni, obbligazioni, metalli preziosi, materie prime, in questo caso ci sono criptovalute, immobiliare, mercato monetario. Come vediamo abbiamo anche altre cose da riferimento, andremo a vederle piano piano. Nel caso delle azioni possiamo decidere appunto il continente, possiamo decidere appunto i paesi, possiamo decidere la strategia che vogliamo utilizzare all'interno delle azioni e poi c'è anche qua i temi appunto. Obbligazioni sono più o meno tutte simili, hanno diverse caratteristiche, diverse appunto parametri, rating delle obbligazioni, vi lascio voi comunque andare a vedere tutti i vari parametri. Comunque la cosa da tenere in considerazione in particolare è dove vogliamo investire. Chiaramente se abbiamo le azioni magari noi vogliamo investire per esempio in Nord America, andiamo a vedere appunto i paesi, qua non ci fa vedere i paesi ma ci fa vedere i settori. Tutti i settori qua non ce ne sono veramente tanti, in energia per esempio ce n'è uno, come vediamo appunto ce ne dà uno. Adesso andiamo a vedere come funzionano anche tutti gli altri parametri, comunque sostanzialmente questo è il modo per ricercarli. Altre cose da tenere in considerazione sono queste parti qua che siccome sono molto importanti. L'indice di riferimento sostanzialmente c'è il benchmark di riferimento del nostro prodotto. Andiamo a vedere l'età che sostanzialmente è da quanti anni appunto esiste questo prodotto, l'utilizzo dei profitti quindi distribuzione o accumulazione, dimensione del fondo è importante per capire la grandezza appunto e quindi la solidità di questo prodotto, modalità di replica quindi campionamento, replica totale o basata appunto sull'iswap. Emittente quindi l'emittente che emette appunto sono abbastanza facili da intuire, famiglia di indici, vediamo Nasitech, vediamo i vari tipi di indici, domicilio del fondo, domicilio del fondo quindi dove è allocato l'emittente, la quotazione di dove è l'etf, l'ultimo parametro è appunto vedere gli etf long, quindi i soliti etf, gli etf a gestione attiva perché gli etf normalmente sono una gestione passiva e gli etf short e da leva. Chiaramente questi qua sono i prodotti più rischiosi, quelli short e da leva. Ora andiamo a vedere questa parte qua, questa parte qua come vediamo? Andiamo a cercare qualcosa in particolare, non voglio cercare le azioni, andiamo a vedere materie preziose dai, materie preziose, andiamo a selezionare appunto un'età che io consiglierei comunque di quello da 5 anni, comunque ci dà un bel riferimento, togliono gli indici di riferimento, accumulazione, cerchiamo accumulazione, dimensione del fondo, le cerchiamo più grande possibile chiaramente. Cerchiamo solo long, l'emittente non ci interessa sostanzialmente e andiamo a vedere cosa ci esce fuori. Come vediamo abbiamo alcune alternative, possiamo vedere il grafico in miniatura, possiamo vedere la valuta del fondo, le dimensioni del fondo in milioni e vediamo appunto altre statistiche importanti. Se andiamo in questa sezione appunto per ieri andiamo a vedere appunto i rendimenti dei vari etf che stiamo selezionando, che stiamo guardando, da un mese, a tre mesi, a sei mesi, a un anno e a tre anni. Come vediamo qua possiamo togliere anche i filtri che abbiamo messo prima. Se andiamo a vedere ad anni ci fa vedere i ritorni negli ultimi anni, 2017, 2018, 2019, 2020 e anno attuale e il rischio appunto ci dice sostanzialmente la volatilità appunto di questi asset. Torniamo alla panoramica principale, andiamo a vedere che possiamo anche selezionare appunto le colonne che ci interessano. Cioè se noi vogliamo personalizzare e dire ok vogliamo la volatilità cinque anni, vogliamo i rendimenti da un anno, tre anni, cinque anni, non mi interessa il TER, dimensioni del fondo, ma in realtà ci interessa. Il grafico su quattro settimane però lo andiamo a vedere dopo, possiamo personalizzare appunto le colonne. Questo secondo me è molto interessante quando compariamo i vari prodotti. Andiamo a vederne uno per fare un esempio. Entrando appunto ci fa vedere la schermata che ci interessa a noi, cioè ci fa vedere l'ISIN intanto che è il codice di riferimento del prodotto. Andiamo a vedere che appunto è erogato, comunque è presente su DeGiro. DeGiro comunque è un broker che ti consiglia se vuoi acquistare l'ETF perché ci sono commissioni abbastanza basse e molte volte si trova degli ETF che sono gratis da comprare. Come vediamo qua abbiamo il prezzo, abbiamo il minimo e massimo 52 settimane. Possiamo andare a controllare appunto la grandezza del fondo, la volatilità come vediamo è molto volatile, qua ci sono le varie informazioni in generale. Vediamo che è accumulazione, quindi comunque questo non distribuisce i dividendi, andiamo a vedere neanche uno che distribuisce i dividendi. E come vediamo questi sono i costi ad anno, ci sono un 0 o 40% di costi che noi paghiamo mantenendo i soldi all'interno di questo prodotto. Chiaramente sono automatici, noi non dovremo fare assolutamente nulla, però vi ricordo che avete da pagare una percentuale su questi ETF. Andiamo nella seconda sezione, c'è appunto il grafico, ma il grafico io vi consiglio di utilizzare TradingView per andare a cercare appunto i vari grafici perché è quello che utilizzo più spesso. Andiamo a vedere rendimenti e qua ci sono appunto una roadmap, mi pare che si chiami, che ci fa vedere appunto i rendimenti per ogni mese e ogni anno in confronto. Vediamo anche come nella schermata del filtro possiamo vedere rendimenti a un mese, a tre mesi, sei mesi, un anno, tre anni e gli elementi degli anni. Qua ci fa vedere la quotazione, ma comunque la volatilità non ci fa vedere perché abbiamo bisogno del premium, ma comunque non è necessario avere il premium per fare delle ricerche. Lo faccio sempre, sinceramente, non è necessario. Chiaramente se voi volete avere più servizi potrebbe essere interessante avere la versione premium. Ora vi faccio vedere una distribuzione. Qua metto appunto distribuzione e andiamo a vedere per esempio il primo. Come vediamo qua c'è scritto distribuzione e la frequenza di distribuzione è semestrale, domicilio Irlanda chiaramente. Se andiamo in una sezione di dividendi ci dice appunto i dividendi degli ultimi 12 mesi. Nella schermata di dividendi possiamo vedere quanti dividendi ci vengono distribuiti in tutto l'anno. Chiaramente questo qua è all'anno. Non ci dice quanto è la percentuale, ma è facilissimo calcolarla. Basterà andare a vedere il prezzo appunto dell'ETF, andare in dividendi e appunto fare 2.08 diviso 57 che è il prezzo. Se moltiplichiamo poi per 100 otteniamo un 3,6% di rendimenti all'anno in dividendo. Ora per quanto riguarda gli ETF io in generale consiglio il fatto di utilizzare degli ETF per esporsi a dei dividendi perché dovete sempre contare che comunque quando noi investiamo in dividendi normalmente investiamo in azioni. Le azioni hanno il problema o il rischio se volete che possono essere tagliati i dividendi di un'azione. Se noi invece possediamo un ETF questo è più difficile che accada perché comunque essendo in un paniere di appunto titoli che distribuiscono il dividendo la possibilità che tutti tagliano il dividendo è veramente bassa. Quindi il mio consiglio è che se siete dei dividendi di investor utilizzare l'ETF per esporsi ai dividendi può essere una buona strategia dal mio punto di vista. E poi vi ricordo sempre che comunque c'è il costo annuale che dovete sempre tenere in considerazione e comunque che tenete in considerazione anche le tasse che dovete pagarci sui dividendi. L'ultima cosa che vuol far vedere è appunto la funzione confronta. Se andiamo a fare un confronto tra quello che abbiamo guardato prima e quello che abbiamo guardato adesso vediamo andiamo in fondo vediamo che confronta la selezione. Facendo questa funzione possiamo confrontare appunto i due strumenti che abbiamo deciso. I periodi, la percentuale di ritorno all'anno o al periodo, la percentuale di rischio eccetera eccetera. In realtà qua ci sono anche altri grafici come per esempio il confronto tra i grafici. Possiamo vedere anche altre funzioni per esempio il confronto dei grafici se andiamo nella sezione, in questa sezione qua. Ultima cosa prima di concludere la questione di JustETF è appunto, a parte il fatto che comunque potete cercare in generale se io scrivo gold qua posso andare a cercare le cose che mi interessano. Quindi è anche utile utilizzare la barra di ricerca, non l'avevo parlato ma è abbastanza chiaro. Se andiamo nel pianificatore strategico che ho usato qua è molto interessante perché praticamente se noi lo clicchiamo noi possiamo creare un portafoglio diciamo personalizzato creato da JustETF. Facciamo un esempio, 10.000 euro, dopo qua c'è da rinominarlo, decidiamo la selezione del rischio. Per le persone che magari non sanno proprio nulla per quanto riguarda investimenti, bond, azioni eccetera eccetera, questo secondo me è la cosa che consiglio di più perché te lo fa lui in automatico. Basterà appunto selezionare il 50% o il 40% di rischio che sostanzialmente ti cambia la percentuale azionaria all'interno del portafoglio. Se volete un rischio ridotto avrete una percentuale di obbligazioni maggiore perché le obbligazioni sono meno volatili. Mettiamo in caso un 50-50, qua dobbiamo decidere la strategia azionale che possiamo incendere, è molto carino il fatto che ci dia la possibilità di scegliere tipo azionario mondiale, azionario mondiale economia internazionale, strategia azionale globale, economia globale sostenibile, approccio regionale. Ci sono veramente tante cose, per esempio prendiamo internazionale, qua appunto vi fa vedere anche la diversificazione, la concentrazione, i primi paesi, la diversificazione eccetera eccetera eccetera. Qua volete aggiungere le materie prime, non vogliamo le materie prime o se no dai mettiamo il 10% di materie prime e qua c'è la strategia obbligazionale chiaramente, quindi noi possiamo decidere titoli europei, titoli, sono tutti europei questi qua. Prendiamo appunto un titolo europeo, la dimensione, costi, età possiamo appunto decidere e qua c'è un'altra strategia che potrebbe essere quella dimensione a costi o età, cioè appunto dimensione è quella che hanno volumi maggiori, età che ha un'età maggiore, costi appunto che siano più appunto economici in generale. Come vediamo abbiamo la strategia, possiamo decidere dimensione in questo caso e abbiamo già degli etf che ci dico, è già un portafoglio questo, come vediamo abbiamo la commissione del fondo, il peso, gli importi in euro perché avevamo messo 10.000, i rendimenti a un anno e le commissioni a anno e possiamo appunto avere già un portafoglio e possiamo anche modificarlo perché ci possiamo giocare con questo portafoglio e secondo me è molto interessante. Nell'accademia invece ci sono risorse gratuiti se volete appunto consultare, imparare appunto ci sono degli articoli molto interessanti. Il secondo sito di cui ti consiglio è etf database, utilizzo questo sito principalmente per informarmi riguardante un etf, cosa voglio dire? Intanto vediamo che appunto qua possiamo dividere, non c'è un grande filtro in questo sito, però possiamo appunto andare a vedere, dividere per dividendi, dividere appunto per ritorni, possiamo dividere appunto anche per font flow, quindi comunque il flusso appunto di fondi e abbiamo gli issuer, siamo nell'issue e vediamo appunto quelli che le... il motivo per cui utilizzo questo sito è per informarmi riguardante degli etf. Facciamo un esempio, mettiamo caso che voglia informarmi riguardante appunto il mercato del rame per esempio. Se vado a schiacciare copper mi vengono fuori alcuni etf sui copper. Se io vado a cercare magari, non c'è dei minatori di copper, ma andiamo nel... ecco questo qua. Mettiamo caso che io voglia cercare il copper e quindi faccio una ricerca per copper e voglio informarmi riguardante ai minatori di copper. Quindi andiamo su copx e questo qua è un etf che si espone ai minatori di rame. Come utilizzo io questo sito? A parte che ci sono tutte le informazioni che come anche Just Etf vengono rappresentanti, cioè il costo che è un pochino alto questo qua in generale, l'etf, andiamo a vedere appunto quando è stato creato, la tax, brand, andiamo a vedere tutte le altre cose, non andrò a dilungarmi troppo su questo, ma quello che mi interessa a me è l'holdings. All'interno di holdings noi vediamo il peso strategico di ogni azione in questo caso, comunque di ogni prodotto. Cos'è? Perché utilizzo questa cosa qua? Lo utilizzo principalmente per studiare gli etf, perché uno dei motivi per il quale utilizzo questi strumenti, questi siti per cercare gli etf, è per informarmi, per avere più notizie riguardanti un settore. Per esempio io so che queste qua sono tutte delle buone minatrici di copper o che comunque sono correlate al rame. E questa cosa è una cosa molto interessante, soprattutto per persone che vogliono crearsi i propri prodotti, come me. Io non compro etf personalmente perché ci tengo a crearmi i miei prodotti personalizzati. E che cosa faccio? Sostanzialmente io mi creo, vado a vedere le migliori possibilità all'interno di un mercato, come esempio il copper, e li metto all'interno del mio portafoglio. Cioè io mi creo i miei etf per due motivi principalmente. Uno perché li posso personalizzare e quindi decidere cosa metterci dentro, perché gli etf non li puoi cambiare in generale. E il secondo per non pagare i costi di gestione, perché appunto tutti hanno dei costi di gestione. E secondo me è un buon modo per fare questa cosa qua. Nella sezione chart possiamo andare a vedere inoltre, oltre al grafico, una cosa molto interessante, cioè la diversificazione all'interno dell'etf. Possiamo vedere il sector breakdown, quindi non energy minerals, cioè minerali non energetici, distribuzione di servizi e cash. Market cap breakdown, appunto large, small, mid, micro. region, quindi appunto il continente, e il country. Quindi possiamo vedere, studiare oltre che le azioni che ci sono all'interno dell'etf, anche la diversificazione che è già stata fatta da qualcun altro. Ed è molto interessante da studiare e in generale capire, per esempio, una cosa interessante è capire che il 37% dei minatori all'interno di questo etf sta in Canada. E in generale mi fa pensare che appunto il Canada abbia grandi minatori di rame, e quindi sia uno stato in cui ci sia tanto rame. Andiamo a vederci comunque tutti i menu, appunto il primo l'abbiamo già visto, i trading data, alternative etf, appunto ci fa vedere dei etf in alternativa. Andiamo a vedere expensive, ci fa vedere appunto le spese che dobbiamo sostenere per tenere questo etf. Ho saltato dividend, i dividend in questo non ci sono, ah no, ci sono, ci sono i dividendi, ci sono 0,32 dividendi, che è uno 0,98% di dividendi all'anno. Holdings l'abbiamo visto, fund flows, appunto vediamo come aumenti comunque la capitalizzazione, diciamo, di questo etf. Andiamo a vedere poi le performance, one week, quattro week, 13 week, settimane, parliamo, 5 anni, 1 anno, 3 anni, queste cose qua le lascio a voi da comunque controllare. Qua ci sono dei segnali tecnici da tenere in considerazione, anche se secondo me non sono dei grandi indicatori, preferisco farmi le analisi per conto mio, anche perché un indicatore per uno vuole dire qualcosa, per un altro magari vuol dire qualcos'altro, quindi non tenete troppo in considerazione queste cose. Un'altra cosa da tenere in considerazione, qua ci sono appunto i rating per quanto riguarda gli strumenti, sono i fact sheet. I fact sheet sono praticamente dei fogli in cui ci sono dentro i documenti riguardanti questo prodotto e ci sono scritti appunto le diversificazioni come abbiamo già visto e che vengono riassunte comunque dal sito, ma è interessante vedere l'emittente appunto di questo etf e cosa ha scritto riguardante questo etf, come vediamo anche ci sono delle belle charte per capire appunto come sono divisi e quindi secondo me è sempre interessante vedere questo tipo di documenti. Questo è tutto per quanto riguarda etf database. Questi sono i due siti che utilizzo appunto per ricercare gli etf che mi interessano, ma in generale è anche per studiare gli etf, perché studiare gli etf ci permette di capire come le persone, gli investitori, quelli che li hanno creati, hanno ragionato per crearlo e appunto ci può aiutare per migliorare le nostre strategie di diversificazione. Inoltre utilizzare gli etf per capire in che azioni potessi esporre riguardante magari una materia prima, come può essere appunto l'oro, potrebbe essere interessante vedere appunto come sono formati i minatori d'oro e quindi cercare l'etf, cercare appunto quali azioni fanno parte e appunto studiare il mercato del gold in questo caso. Quello che faccio io in generale è questo, utilizzo etf database per informarmi riguardanti gli etf e capire quali strumenti utilizzare. Normalmente non acquisto etf perché essendo io una persona che voglia essere interessata a cosa investe e crearsi i propri portafogli, per me non ha senso investire in etf a meno che appunto non dico che non ci investirò mai, ma attualmente non ho alcune intenzioni di ricominciare, piuttosto gli etf mi servono per studiarli e crearmi i miei portafogli diversificati. Uno per evitare appunto i costi di gestione e due per poterli personalizzare perché chiaramente sono prefabbricati questi etf e non possiamo deciderli, invece se creiamo i nostri portafogli possiamo fare quello che ci pare e anche senza costi. E questo appunto è quello che faccio io. Detto ciò per questo video è veramente tutto, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se utilizzi attualmente questi siti e se ne hai altri da consigliare in modo tale che le altre persone guardando i commenti possono ottenere vantaggio. Metti mi piace se trovate interessati a questo video e mi do a sopportare il canale, iscrivete il canale per non perdere altri video come questo, in generale porto contenuti riguardanti appunto gli investimenti, il trading, facciamo analisi tecnica una volta nei due giorni normalmente riguardante le criptovalute ma anche comunque azioni se siete interessati e se volete potete scriverlo sotto nei commenti, vi porterò un'analisi tecnica di qualche azione o coin che vi interessa. Detto ciò per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!